Ti abbiamo visto giocare, però è importante saperlo anche dal diretto interessato. Che tipo di difensore sei? Sono un difensore che mi piace giocare palla a terra, fa partire bene l'azione, con molta grinta e direi un difensore veloce. Il fatto che comunque tu conosci già Grosso, il mister ti conosca, può avvantaggiarti? Sì, ho avuto il piacere di lavorare con il mister a Bari, è un allenatore molto preparato e mi fa piacere incontrarlo di nuovo, perché comunque è un allenatore che vuole giocare a calcio e questo è molto importante. È un allenatore che vi tiene anche tanto, tanto alti, no? Finché c'è birra va bene, no? Finché c'è benzina, però nel momento in cui non c'è più benzina sono lunghi 95 minuti. Ormai si gioca in media 95 minuti, non più 90. Dimmi la tua, dammi il tuo giudizio. No, penso che per giocare a calcio o palla a terra bisogna essere colti, quindi magari quando la palla in attacco la difesa deve stare alta per dare una mano, fare le preventive. Quindi, come ti ho detto, è un allenatore che vuole giocare palla a terra e per giocare a calcio bisogna stare colti. Il calcio in Italia però è comunque una bestia strana, no? Nel senso che comunque Sarri non ha vinto nulla con un tipo di gioco che è molto dispendioso, molto bello, molto... Voi siete piccoli ma anche il Torino di Radice che imitava la grande Olanda comunque vinse solamente uno scudetto. Cioè si bada sempre a non prendere gol e le squadre che si costruiscono proprio sulla forza della difesa poi vanno molto lontane. Un tuo giudizio, una tua idea su questo e soprattutto anche con una Serie B che noi troviamo dopo due anni ma che magari è cambiata in questo tempo. La Serie B è un campionato difficile, come hai detto, per fare una bella stagione la difesa deve fare bene perché diciamo che è uno dei punti importanti. Perché se fai bene in difesa già sei a metà dell'opera, se riesci a trovare la quadratura difensiva in un campionato come la Serie B puoi solo che fare bene. Quindi il mister sa cosa fare, sa come lavorare. Al di là del misteri trovi anche tante altre facce amiche, no? Sì, sì, trovo tanti giocatori, magari che ho giocato contro, ho giocato insieme. Comunque conoscevo grande parte della Rosa, grande parte della Rosa del Verona che mi fa piacere poi giocarci insieme. Le tue favorite dopo il Verona? Verona è? Non saprei, la Serie B è un campionato strano, quindi non voglio magari mettere, diciamo che evito di dire le favorite. Senti, è un campionato molto strano, visto anche che anche oggi non c'è l'ufficialità, il 100% che si giochi, 19 squadre, il presidente del vostro sindacato che minaccia ancora di far slittare le prime due giornate di campionato, perché comunque sono dei posti di lavoro, c'è un po' tanta confusione. Che idea ti sei fatto? Sì, però io ho seguito in parte questa cosa, però noi ci stiamo allenando per giocare domenica e nella nostra testa è di giocare domenica, stiamo lavorando per arrivare bene domenica. Ecco. E Padova lo conosci? Bisoli Padova? Sì, Bisoli conosco il modo di giocare, conosco, no, a Padova conosco pochi giocatori, la conosco magari Sandu che ha giocato con me a Foglio, ma comunque sarà una squadra preparata, perché Bisoli è un allenatore molto preparato, che conosce la categoria. Grazie. Ciao Alan, Alberto Fabri della Slive, benvenuto a Verona innanzitutto. Grazie. Tu hai avuto modo l'anno scorso di affrontare un giocatore che adesso è diventato tuo compagno di squadra, come Samuel Di Carmine, un giocatore che in Serie B può e deve fare la differenza, e dopo un giocatore del talento indiscusso che il Verona cercava da anni, ovvero Colombatto. Visto che ti sei già descritto tu come caratteristiche, ci racconti come sono questi tuoi nuovi compagni che il pubblico di Verona deve ancora conoscere bene? Samu lo conoscevo dai tempi della Fiorentina, che quando sono arrivato a Firenze io ero ragazzino, lui stava in primavera, ha preso il dito, ha segnato, mi sa, in Champions League. È un giocatore forte, un giocatore che cerca molto la profondità, un giocatore che sa fare gol, è molto forte. Colombatto è un giocatore giovane, un giocatore importante, che ha tanta qualità, che fa partire bene l'azione, c'è il sinistro, diciamo, di tanta qualità ed importante, e quindi può fare molto bene tutte e due, sia Samu che Santiago. Ecco, ne parlavo prima con Andrea, è inutile girarci tanto attorno, l'obiettivo è più che chiaro. Quest'anno l'Elas Verona deve assolutamente recitare una parte della protagonista in Serie B. Allora, quello che penso è che comunque la squadra è una squadra importante, è una squadra che può ambire alla Serie A, però c'è sempre il campo, quindi dobbiamo dimostrare, dobbiamo diventare squadra il più veloce possibile, mettersi a disposizione del Miste e provare in tutti i modi a centrare l'obiettivo. Ecco, hai avuto modo di lavorare l'anno scorso, ed è anche per questo, immagino, anzi, sottolino, che sei venuto a Verona con Fabio Grosso, un'altra persona che noi stiamo piano piano conoscendo, però abbiamo già capito che è uno che preferisce parlare poco e far parlare il campo. Sì, il Miste è di poche parole, gli piace far parlare coi fatti, è un allenatore molto preparato, e niente, quello, è preparato, lo vedrete, è molto bravo. E parlando invece di tattica, un attimo, perché insomma i numeri nel calcio contano e non poco, il Miste ha provato più soluzioni tattiche, specie in difesa, tu ti vedi più in una difesa 4 o in una difesa 3, quindi magari avanzando un attimo il tuo raggio d'azione? Allora, a Bari abbiamo fatto sia la difesa 4 che la difesa 3, il Miste li ha provati tutti e due, li prova tutti e due, diciamo che a 3 magari se è più coperto è più, diciamo, per me mi sento più adatto, però appure a 4, cioè per me li trovo indifferenti, l'importante è che mi faccia trovare pronto quando gioco e di fare bene. Ultima battuta, pensando ovviamente solo e esclusivamente al Padova, perché salvo sorpresa dell'ultima ora, domenica ore 18 appuntamento al Bente Godi, bisogna anche un attimo valutare il potenziale, non solo di questa rosa, ma anche della Serie B in generale. Secondo te il campionato di Serie B, ok, è difficile, ma rispetto agli altri anni c'è più o meno qualità e soprattutto ti faccio due domande in uno, visto che hai firmato il contratto fino al 2021, tu qui a Verona hai deciso di costruire qualcosa di importante? Sì, allora, il campionato di Serie B, come ti ho detto, è un campionato difficile. Penso che negli anni che stanno passando, due o tre anni fa si è abbassato, però in questo anno si è alzato il livello, magari società come Verona e il Benevento che è venuto su, che ha fatto una buona squadra, sono tante altre squadre forti. Il Palermo, quindi è un campionato difficile. Penso però che le prime partite magari non è da valutare tanto, perché comunque le prime partite vengono dalla preparazione, squadre con giocatori nuovi, però penso che sarà una partita difficile quella contro il Padova e spero che ci facciamo trovare pronti e che possiamo vincere la prima partita, che sarebbe molto importante. Sì, a Verona ho firmato un contratto di tre anni e spero di fare un bel passaggio qua, o magari di continuare di lavorare qua a Verona, perché comunque è una realtà importante, una piazza importante e voglio restare il massimo di tempo possibile. Ciao, Davide Cailotto, Telearena. Te l'ha fatta una telefonata grosso per dirti di venire qui? Allora, di la verità ci siamo sentiti a fine stagione, perché comunque al playoff non ho giocato, perché ero squalificato e non ho avuto modo di salutarlo. Ci siamo sentiti solo a fine stagione, ci abbiamo augurato in bocca al lupo per il resto della carriera. Poi ci siamo trovati qua, lo conoscevo già, mi fa molto piacere lavorare con il mister, è un mister che mi conosce, che mi ha voluto a Bari e penso che avrà parlato pure con il direttore e mi avrebbe fatto piacere che venisse qua, quindi ho un rapporto, un bel rapporto. Una telefonata però te l'ha fatta di sicuro Rida, la Fiorentina è stato un altro vostro compagno. Con Rida ci ho cresciuto, abbiamo vissuto insieme sei anni, uno è uno degli amici che il calcio mi ha regalato, siamo stati insieme sei anni, diciamo che è un fratello, l'ho chiamato, lui mi ha chiamato, era molto contento, conosco tutta la sua famiglia. Che ti ha detto di Verona? Mi ha parlato molto bene Rida, Rida infatti si è trovato molto bene qua, mi ha parlato molto bene della piazza, della città, della realtà a Verona e ho parlato molto bene. Ti ha detto che quest'anno c'è voglia di grande rivincita? Sì, penso tutti quanti, chi c'era l'anno scorso c'ha grande voglia di rivincita e chi è arrivato quest'anno vuole fare bene, perché comunque Verona è una realtà importante, abbiamo una squadra forte e penso che tutti quanti vogliano fare bene quest'anno. Tra i mille volti noti che conosci ritrovi anche il tuo compagno di reparto, Marrone, perché facevate coppia fissa praticamente a Bari. Sì, abbiamo giocato a quattro o due partite, poi le altre partite abbiamo giocato a tre. Lo conosco bene, mi conosce bene anche lui, mi sono sentito con lui in estate, siamo sentiti appena arrivato, è un bel giocatore, è una bravissima persona, mi fa piacere di averlo trovato qua. Ti ci vedi, facciamo gli scongiuri, finalmente in Serie A magari col Verona? Sì, allora è sempre stato il mio sogno, io lavoro per quello, da quando sono arrivato a Firenze, dal Brasile, il mio sogno era quello. Come difensore deve fare tanta gaveta se non hai la fortuna di arrivare subito, quindi io lavorerò sempre per quello, lavorerò duramente, alla settimana, quest'anno, per arrivare all'obiettivo e di arrivare in Serie A col Verona. Andrea come l'hai ritrovato? Sì, bene, sta benissimo Andrea, fa il suo percorso che ha fatto. Quando stavo a Firenze era un giocatore importante e lo ritrovo qua, è un giocatore importante, un bel portiere, mi piace. L'ultima curiosità, toglimela su quel famoso reality, ormai sono passati un sacco di anni, è stato un fastidio? Com'era? Sì, all'inizio no, perché comunque ero ragazzino, però dopo è stato un po' fastidioso perché magari ti riconoscevano per quelle cagate lì, invece a me piacerebbe essere riconosciuto per quello che faccio dentro al campo, non queste cose fuori dal terreno di gioco.